buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è venerdì 19 gennaio 2024 abbiamo tante notizie sui giornali questa mattina una molto molto importante poi ne parleremo ed ora intanto passiamo per l'almanacco del giorno e vediamo che si festeggia oggi si festeggiano quattro santi sono membri di una stessa famiglia si tratta di mario marta abaco e audiface vissero durante le persecuzioni di diocleziano a roma i primi due sono marito e moglie gli altri i loro figli furono arrestati pensate e mandati a morte perché sorpresi durante le persecuzioni a seppellire ben 267 martiri che erano stati lasciati abbandonati lungo la via salaria cercavano di dargli una decente sepoltura furono individuati come cristiani e furono anche loro mandati a morte furono decapitati e quindi le loro reliquie poi riprese da altri cristiani e quindi riportati nelle chiese questi i santi mario marta abaco e audiface ed ora passiamo alle previsioni del tempo ecco la grafica a un tempo in prevalenza in prevalenza non c'è una prevalenza diciamo meglio è una così un equilibrio tra cielo sereno e cielo nuvoloso cieli dunque in prevalente parzialmente nuvolosi beh ci sono dei termini antitetici oggi sui giornali dal pomeriggio comunque ci saranno deboli nuvole che passeranno nel cielo della della regione Marche i venti saranno al mattino e al pomeriggio tesi le temperature temperature si discostano di poco tra la massima e la minima 10 la minima 11 la massima è una temperatura costante invece il mare è leggermente mosso mentre il sole sorgerà tra breve alle 7 e 37 tramonterà alle 16 e 57 ed ora passiamo alla lettura dei giornali a partire oggi dal resto del carlino ed ecco la notizia che volevo annunciarvi ieri c'è stata una conferenza stampa in fondazione Carifano dove il presidente Giorgio Gragnola ha annunciato la fatidica data di inaugurazione dell'impianto natatorio nei pressi dell'aeroporto di Fano la nuova piscina di Fano la si attende ormai da tanti tanti anni un processo lungo quello dell'iter burocratico un progetto che ha incontrato diverse difficoltà ricordiamo le solite difficoltà che caratterizzano un po' i lavori pubblici e privati in questo ultimo periodo l'aumento delle materie prime la guerra il covid le sospensioni appunto dei lavori necessari per salvaguardare l'aspetto sanitario degli operai insomma una questione un lavoro che si è dilungato più del previsto ma che ora finalmente è stato concluso giovedì primo febbraio l'inaugurazione ovviamente sarà una inaugurazione in pompa magna addirittura è previsto anche l'intervento del ministro dello sport e questo veramente questo impianto veramente lo merita perché ci sono quattro piscine non solo per l'attività agonistica l'attività amatoriale ma anche per l'attività riabilitativa e questo è un po' la prerogativa che distingue l'impianto natatorio realizzato dalla fondazione carifano in collaborazione ovviamente con l'amministrazione comunale e ieri alla conferenza stampa era presente anche il sindaco massimo seri che evidenzia l'importanza sociale sportiva culturale di questo centro nella città di fano all'inaugurazione di giovedì primo febbraio ripeto sarà presente anche il ministro dello sport dei giovani andrea abodi un momento ha aggiunto gragnola tanto atteso e particolarmente sentito per un'opera che la città attendeva da 30 anni il comune non ha dato invece indicazioni per quanto dopo la inaugurazione entrerà in attività la piscina stessa la piscina che sarà affidata in gestione in seguito ad un bando pubblico ad un'associazione temporanea di impresa formata da pool 4.0 e dalla fanum fortune dunque abbiamo due entità la fanum fortune la società storica che si è occupata della gestione della dini salvalai non c'è ancora una data ha confermato l'assessore lavori pubblici barbara brunori che invece assicurato sui lavori della ciclabile che collegherà fano la città alla nuovo impianto che si trova un po in periferia un po decentrato c'è anche una precisazione per quanto riguarda l'incrocio abbastanza pericoloso tra le vie interne che conducono alla piscina e la grande strada che costeggia l'aeroporto all'inizio ci sarà un semaforo a chiamata e poi ha detto il sindaco faremo anche una rotatoria ed ora cambiamo notizia e vediamo una nota che ha inviato loretta manocchi segretaria di fratelli d'italia la quale interviene sulla situazione problematica critica critica da diversi mesi che persiste in viale dante alighieri in viale dante alighieri la realizzazione della pista ciclabile la vediamo qui in questa fotografia ha creato problemi al transito pedonale che dovrebbe svolgersi in questo sterrato che divide la pista dall'ingresso delle abitazioni la fotografia qui non rende tanto giustizia in realtà questo sterrato questo camminamento non è un marciapiede dovrebbe essere realizzato un marciapiede ma al momento è semplicemente un sentiero un sentiero spesso ingombro di cassonetti di pali di auto a in sosta abusiva e quindi i pedoni sono costretti a passare sulla pista ciclabile se non sulla careggiata con il rischio di essere investiti dalle biciclette o dalle auto un problema che doveva essere risolto ma che il comune non è riuscito a risolvere fino adesso probabilmente anche perché ha perso un bando della regione che stanziava dei soldi per realizzare i marciapiedi soldi che non sono arrivati perché il bando non è stato così non è stato usufruito in maniera corretta ci sono stati fatti degli errori e la regione ha escluso il comune di fano da questi finanziamenti e così siamo rimasti a secco ed ora giriamo la pagina e vediamo l'altra notizia l'altra notizia purtroppo è dolorosa addio a Giancarlo Pucci padre dell'avanguardia artistica marchigiana Giancarlo Pucci è artista innovativo è stato uno dei più significativi esponenti dell'avanguardia artistica marchigiana se ne è andato la scorsa notte all'età di 87 anni un padre dolce e amerevole lo ricorda il figlio Ignazio Pucci che tutti conoscono è stato dirigente del settore turismo della provincia di Pesaro Urbino poi ha lavorato in regione ed ora ricopre la carica di dirigente del settore cultura e servizi educativi del comune di fano Ignazio Pucci è stato anche segretario della democrazia cristiana ed è stato dunque un esponente politico molto noto in città altrettanto il padre il padre è un artista così molto molto originale diceva sempre io non dipingo i quadri io sono l'opera d'arte io stesso e infatti la sua adesione al movimento dueminista lo rendeva lui stesso un quadro un'opera d'arte erano i suoi travestimenti le sue immagini delle quali si dotava che rappresentavano un'espressione artistica ebbene il lutto ha contagiato un po' tutto l'ambiente artistico della città Giancarlo Pucci viene ricordato oggi anche dal sindaco Massimo Seri il quale dice Pucci è stato un importante artista della città cultore dell'arte comportamentale ha contribuito a valorizzare il nome di fano in Italia e in Europa poliedrico e talentuoso ha sostenuto il fermento creativo cittadino e con le sue performance ha promosso un linguaggio comunicativo diretto e autentico senza filtri e mediazioni e poi il suo studio nei pressi della basilica di San Paterniano era sempre sempre aperto un centro culturale un centro artistico di notevole rilevanza addio Giancarlo è un peccato che non ti vedremo più cambiamo notizia e passiamo dal brutto al bello va beh questo è un po' il transito che vediamo sfogliando i giornali e vediamo il successo invece della cena grassa con la quale è iniziato il carnevale il 17 di gennaio giorno della festa di Sant'Antonio Abate una cena grossa e grassa un successo annunciato l'evento aveva l'obiettivo di racimolare fondi per la mensa di San Paterniano è veramente è stato raccolto un bel gruzzolo 4.507 euro beh insomma un contributo importante per la mensa che ha sempre bisogno del sostegno di tutti i cittadini l'evento aveva l'obiettivo di racimolare fondi per la mensa di San Paterniano fine raggiunto grazie anche al tutto esaurito a Villa Piccinetti è il primo evento che caratterizza il carnevale delle 2024 ora ne succedono tanti tanti altri fino al 13 di febbraio quando sarà l'ultimo giorno di carnevale vediamo quali sono gli altri appuntamenti sabato domani alle 11 nella galleria commerciale di Mano Center ci sarà la mostra dedicata alla musica da vita che con questa iniziativa chiude tutte le attività tutte le iniziative dedicate al suo centenario il centenario della band e poi nella giornata di sabato 20 e 27 gennaio 3 e 10 febbraio alle 11 ci sarà una esibizione dal vivo del gruppo sempre domani alle 21 nel salone della casa della comunità Don Paolo Tonucci la Borghetti Bugaron Band si esibirà in occasione dell'anniversario dei 20 anni della celebre canzone Avanti e Indre ingresso con dolci e vin brule nella casa della comunità domenica prossima alle 11 è invece possibile partecipare alla visita guidata dei cantieri del carnevale i capannoni del carnevale di Viale Piceno e vedere un'anteprima dei grandi carri che sfileranno poi la domenica successiva e le altre due domeniche di febbraio nella occasione del carnevale di Fano passiamo a Val Metauro a Val Metauro che cosa succede succede che ci sono stati due casi di maltrattamenti nei confronti delle donne insomma questo è un reato che sembra non cessa che non sembra non cessare mai non finire mai due provvedimenti sono scattati per un 56enne e un 42enne gli episodi sarebbero venuti a colli al metauro e terre roveresche minacce aggressioni messi in atto anche in presenza dei figli minori ebbene i carabinieri di queste due stazioni hanno dato esecuzione a due misure cautelari che prevedono il divieto di avvicinamento alle persone offese emesse dal GIP del Tribunale su richiesta della locale procura della Repubblica e ieri si è sviluppato un incendio in un appartamento a Marotta non c'era nessuno in casa c'era solo un cane poveretto il cane è morto perché ha respirato delle esalazioni che poi lo hanno ucciso sembra che sia scatorita una scintilla ancora non si sa come dalla cucina stessa una cucina che ha una una scintilla che ha fatto divampare poi le fiamme e tutta la cucina è andata a fuoco e i ovviamente i vigili del fuoco sono intervenuti con tempismo e sembra che abbiano salvato gli altri ambienti della casa la famiglia che vi abita era uscita lasciando il fedele amico a quattro zampe che purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto per aver respirato a lungo il fumo che usciva dalla cucina questa è la disgrazia che si è verificata a Urbino a Urbino c'è una rivendicazione sindacale per tutti i dipendenti della università nuove indennità negli Atenei la CGL dice no l'applicazione del decreto del governo Draghi anche a Urbino spinge il sindacato a chiedere una revisione delle scelte fatte l'indennità e gli stipendi potrebbero far superare la soglia dei 240 mila euro ebbene la richiesta è di fare un aumento salariale anche al personale viste le maggiori responsabilità assunte da tutti i dipendenti la discarica di riceci fa sempre parlare di sé alimenta anche la tensione politica in vista delle prossime elezioni amministrative ci sia il coraggio di dire basta e interviene in questo caso il comitato che lotta contro la discarica di riceci che chiede di non trascinare la vicenda nelle campagne elettorali in vista sono poi altre forti proteste insomma non bisogna strumentalizzare questo argomento per ottenere più voti si tratta invece di incidere profondamente per evitare che questo stupendo paesaggio collinare di riceci venga deturpato dalla nuova discarica e parliamo anche del tartufo perché è stata una stagione dei record quella appena terminata si chiude domani la stagione del tartufo bianco pregiato e per tutta la filiera che sta dietro il pregiato fungo ipogeo è tempo di bilanci bilanci che hanno elevato la qualità la quantità e anche il prezzo ma i pezzi grandi sono sempre più rari e qua ne vediamo un esemplare nelle mani della presidente del consiglio dei ministri giorgia meloni in piazza mattei ad acqualagna insomma la sua visita ha fatto epoca ad acqualagna e ha promosso anche molto il consumo del tartufo dicembre è stato il mese più caldo dal lontano 1850 ai giorni nostri la pioggia è nella media solo perché il primo semestre è strato produttivo siamo oltre la metà di gennaio ora è di fatto l'inverno ancora non si è visto e anche questa mattina devo dire che venendo in redazione non era freddo insomma ovviamente la temperatura non era di 18 e 20 gradi ma era una temperatura abbordabile possiamo dire e ancora l'inverno non ha fatto sentire i suoi rigori ci ho detto passiamo anche la pagina di pesaro per vedere come si avvicina la data fatidica che è quella di domani con la visita di mattarella vediamo qui addirittura due pagine dedicate a questo evento e a tutti gli spettacoli che domani inaugureranno pesaro come capitale nazionale della cultura la capitale si scatena casadei detta il ritmo andremo a tutto gas e vi faremo ballare ha detto il responsabile di questo gruppo storico l'orchestra si esibirà dalle 20 alle 23 circa mentre alle 19 riapriranno i cancelli della vitifrigo arena dopo l'esibizione di max e gazzè che è alle 16 e per poter far accedere il pubblico all'interno dell'astronave l'ingresso sarà completamente gratuito fino ad esaurimento posti invece si pagherà quello che verrà dopo casadei alle 22 e 30 si ospiterà nella vitifrigo la festa once a year e rosa chemical l'unico appuntamento a pagamento della giornata il costo è 17 euro comunque tutto è in fermento per la visita del presidente mattarella che andrà anche da inaugurare il teatro di valle foglia e vediamo che a presentare il presidente sarà paolo bonolis che aprirà la cerimonia inaugurale al mattino alle ore 11 via al tour manifestazioni in tutta la provincia intanto parte valle foglia ogni comune sarà capitale per una settimana la prima dal 22 al 28 gennaio con tante proposte è una delle prerogative di questa grande manifestazione che poi si trascinerà per tutto l'anno a pesaro e quella di aver coinvolto anche i comuni della provincia e quindi abbiamo tutto un insieme di grandi iniziative che coinvolgeranno non solo pesaro come capoluogo ma anche tutte le altre località del territorio il totem è messo all'asta la protesta delle famiglie lì vanno i nostri figli si parla del centro di aggregazione giovanile che sta per essere venduto dal comune c'è rabbia per questo provvedimento a villa san martino è un servizio molto utile per il quartiere i ragazzi giocano fanno i compiti seguiti da educatori poi una volta che il lo stabile sarà venduto dove andranno e questo è l'interrogativo che viene enunciato a questo punto passiamo al corriere adriatico vediamo che l'apertura nel corriere adriatico è dedicato ad un tema che si è dibattuto a lungo nell'ultima seduta del consiglio comunale di fanno la prima del 2024 che si è svolta l'altra sera ebbene si è parlato della ciclovia del metauro un argomento che ha diviso profondamente la maggioranza tant'è che tutto il gruppo consigliare del partito democratico al momento del voto è uscito dall'aula che cosa è accaduto è accaduto che da sempre il comune di fanno aveva sostenuto il progetto che era stato concordato con la vecchia giunta ceriscioli la vecchia giunta regionale delineando il percorso della ciclovia del metauro nei pressi della ferrovia fanno urbino la regione invece con acquaroli ha cambiato radicalmente il progetto ha fatto un percorso più arzigogolato un percorso che a un certo punto lascia i pressi della ferrovia e va un po' nei campi gira un po' in diverse località e questo non è piaciuto al comune di fanno soprattutto non è piaciuto al partito democratico però in ballo c'è un contributo di 6 milioni e mezzo ed il corriere adriatico inizia l'articolo dicendo per enrico navarra parigi valeva bene una messa per il sindaco massimo serio tenere un contributo di 6 milioni e mezzo val bene accettare il progetto della regione quindi c'è stato un cambiamento di intesa e ob torto collo il comune di fanno ha accettato questo nuovo progetto la cosa però non è piaciuta al partito democratico che ha definito con la sua capogruppo agnese il giacomoni il progetto un progetto scellerato addirittura usando le espressioni forti coscientemente l'ha detto insomma ovviamente in termini politici e tutti quanti sono usciti dall'autla sono rimaste le liste civiche che aderiscono al sindaco massimo seri e la delibera è passata con i voti dell'opposizione quindi c'è stato questo momento di incrinatura all'interno della maggioranza all'inizio dell'anno siamo in campagna elettorale insomma qualcuno cerca di andare un po' per conto suo e poi abbiamo anche sul corriere l'addio a Giancarlo Pucci la personificazione di arte e fantasia bello questo titolo perché è significativo di come lui stesso era un'opera d'arte qua lo vediamo in una delle sue performance Giancarlo Pucci in uno dei suoi travestimenti artistici è morto a 87 anni uno dei personaggi più eclettici della città oggi il funerale c'è anche il ricordo dei suoi compagni d'arte dei suoi amici dei suoi estimatori si inaugura la nuova piscina taglio del nastro con il ministro dello sport Gragnola e Seri annunciano la data primo febbraio ma i dettagli restano top secret verranno ancora un po' da definire ecco perché non vengono resi noti e saranno resi noti poi via via che ci avviciniamo alla data del primo febbraio prossimo ultimatum di De Leo che ogni tanto sale alla ribalta della cronaca azzerate la trattativa ci sono ancora fibrillazioni all'interno del centrodestra per la candidatura di Luca Serfilippi che dovrebbe ormai essere così presentata alla città manca poco ovviamente Luca ormai viene considerato il candidato univoco del raggruppamento della coalizione del centrodestra e De Leo si trova davanti un avversario non certo facile da sconfiggere insomma vediamo un po' poi che cosa accadrà e passiamo alle altre notizie vediamo la cronaca percosse alla ex davanti ai figli per lui obbligo del braccialetto è uno dei casi che abbiamo già rievocato sul resto del carlino per quanto riguarda la violenza alle donne di vieto di avvicinamento e di comunicare anche per un altro accusato di violenze sono due gli imputati di questa vicenda vi ricordate uno di 42 anni e l'altro di età maggiore di 52 riaperto il ponte sulla strada mondaviese installate barriere di sicurezza e consolidati i cordoli di ancoraggio sono stati inaugurati questi lavori e qui vediamo nella fotografia il taglio del nastro sul ponte della strada mondaviese e vediamo che c'è il sindaco che appunto inaugura questa nuova opera vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di alluvione cinque anni per dormire tranquilli la sicurezza arriverà un po' alla volta quanto è passato non si dimentica c'è stata una tavola rotonda sulla ripartenza per così risorgere dopo quanto la pioggia ha allagato e ha sommerso con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa come sempre vi do appuntamento domani alle 6 e alle 7 in punto mentre questa sera alle ore 20 e 30 per le notizie del giorno nel Tg di Fano TV occhio alla notizia e questo è tutto per il momento a risentirci e questo è tutto per il momento a rispondere